Eccoci, buongiorno. La situazione di oggi vede nuvole meno, facciamo la questione di colore, quelle più chiare, più bianche sono quelle più intense, quelle più grigie, uno pensa che siano quelle più pesanti, più portatrici di piogge, in realtà sono quelle più basse, quindi poco sviluppate e riguardano alcune zone del nord, alcune zone anche del sud. Vedete la parte in bianco, qui ci sono fenomeni intensi, ma ormai sta attraversando l'Adriatico. Previsione per la giornata di oggi, andiamo subito a vedere le zone più colpite, quelle dell'Emilia Romagna e in parte poi delle Marche. Ecco, qui ci sono ancora piogge deboli, tendenzialmente potrebbero localmente essere moderate, sono in attenuazione, ma ancora qualcosa c'è, come si diceva questa mattina, le quantità non sono significative, ma si vanno ad aggiungere alle quantità elevatissime dei giorni scorsi e quindi aspettiamo tutti che smetta proprio di piovere. Al sud, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia orientale, la possibilità di qualche fenomeno isolatissimo, forse anche qualche temporale, qualche rovescio, però sono proprio sporadici qualcuno qui e là, quindi c'è ancora una certa instabilità. Sulle altre regioni, il Tirreno, la Sardegna, al nord, qualche debole precipitazione sulle zone montuose, ma insomma la situazione è piuttosto tranquilla. Giornata di domani si attenuano quasi del tutto ormai, possiamo dire, le piogge nelle zone alluvionate, anche al sud l'instabilità rimane isolatissima, forse sulla Puglia, poi sul mare, ancora sullo Ionio, se no vedete che non sarà ovunque sereno, un po' di grigio si vede, qualche nuvola, ma insomma dove ci fossero sono fenomeni molto deboli. La giornata di domenica non cambia nell'insieme questa tendenza, vediamo la carta successiva, rimane però, ecco forse non riusciamo a averla, eccola qui, e vedete al centro qualche debole fenomeno nel pomeriggio sull'Appennino, lo stesso in Sicilia, in Basilicata, ma sono fenomeni proprio sporadici. E invece significativo questo maltempo che si affaccia sulle Alpi occidentali e che interesserà anche le zone della Francia, della Costa Azzurra, anche delle Baleari, insomma sarebbe un nuovo peggioramento che seguiremo. Vediamo i venti previsti per la giornata di oggi, vedete questo nord-est un po' sostenuto sul Mar Ligure, che dà anche un moto ondoso appena significativo, così come sul basso Ionio, sullo stretto di Sicilia, ma insomma nell'insieme i venti non sono molto forti e se vedete nord-est e sud-ovest ancora c'è una rotazione che tende ancora anti-oraria, ma che tenderà a diventare oraria, significa che la bassa pressione si sta esaurendo. Le massime previste per la giornata di oggi? Qualche recupero c'è, perché un po' più di sole ci sarà, questo vale per le pianure del nord, per il versante tirrenico, non quello adriatico, e sulle isole. In aumento significa magari 22-23 gradi, forse 24, però non ci contiamo ancora troppo. La tendenza nelle prossime 24 ore è stazionare al nord, dove il tempo sostanzialmente non cambia, in leggero aumento sulle zone centrali e soprattutto sul versante adriatico, dove appunto senza le piogge le temperature saliranno un poco. Vediamo velocemente qualcuna delle nostre foto, la prima ce l'ha mandata Carla, è un'aurora, insomma il sole ancora non è sorto ma già si illumina, questa è la luna ovviamente, sul Monte Pelmo è delle Dolomiti di Zoldo, siamo in provincia di Belluno. E poi vediamo quest'altra foto che ci manda Flavia, siamo con una vista sulla rocca di Angera, siamo sul lago Maggiore, dal versante piemontese a quello lombardo, con questo ramo, vedete che fa da cornice, zone comunque molto belle. Magari facciamone vedere velocemente un'altra, quella di Luigi, con questa alba lungo questa strada di campagna, con questo piccolo corso d'acqua che si chiama Gravellone, siamo in provincia di Pavia, una bell'alba rosata.